...chi è stivi in indiana a Chicago certo non è acqua piper però si divertono la casetta della cognatina una, due, tre, chi è venuto più lungo? vi hai tanta rincorza Matteo ok, stop! Lorenzo bravo Lorenzo Matteo Stasi piccolo giardino così, giusto un fazzolettino un chilometro laggiù finisce alberelli le hamache che io già ho sbracato, già me ci sono accappottato giochi per bambini casetta per attrezzi campo di grano cosa ci fai tu in un campo di grano? eccoci America una casetta così giusto, una dependanza proprio arrivo! mi abbucono bravo Lorenzo, vai Matthew naturalmente l'acqua è insaponata se no non si scivola ok, sta bravo, sta bravo stasera grande braciata in questo mega barbecue che è 3 metri quadri, in America è tutto più grande tranne un uccello da americani Lorenzo puoi spremono via Pimo per l'altro ok, il primo uccello per l'altro uccello metri un uccello eh, un uccello un uccello un uccello Grazie a tutti.